ragazzi proviamo west end abbiamo fatto un errore che però non ne ha spiegato vediamo come se riusciremo fratelli samson uccisione speriamo di avere abbastanza punti per poi sbloccare la mappa abbiamo comprato un fucile pensando di poterci mettere sopra il silenziatore e invece angelo glielo vuoi dire tu? ho dovuto prendere il fucile più scarso e poi metterlo e ho speso i materiali che servivano per aumentare il campo si c'è veramente un fallimento copioso dietro l'altro queste sono le classiche cose che mi fanno girare il cazzo quelle meccaniche un po' strane che non puoi tornare indietro e quindi ti dicono eh vabbè sti cazzi ho capito sti cazzi quindi non me lo potevi dire che non potevi mettere il silenziatore al car cioè se no cazzo cazzo lo prendo a fare il car cioè vado avanti però ho visto una cosa ho visto che potevi smontarti le armi quelle obsolete sentate ma non mi dà niente in più ah ok lo confermo ci ho provato ho provato di tutto anche non lo so allora questo l'abbiamo fatto no? ok vediamo assicuriamoci comunque il kit da meccanico ti confermo che non serve assolutamente a nulla ok qui non ho visto silenziatore sottile riparato non volevo il silenziatore come faccio a dirgli? ti ha messo quello il gigante oh porca troia ti ha messo quello il gigante no non mi ha messo mi dice quello riparato minchia pure a me ma che cazzo? cioè ma io non lo so cosa cazzo faccio a fare le cose allora cioè non è che è proprio no siamo in tre oh guarda questo qua con la doppia c'è 116 di fucile la beretta ah scusa pronto non capisco perché ho messo il riparato a me sembra da qui che mi abbia messo quello normale però dalle statistiche mi dice che è riparato non si capisce una beata fava come direbbero i toscani malaca malaca vabbè vediamo che cosa ci dice il video speriamo che non defaulti non fai ridi dei problemi con l'ignorarlo lascia un po' crescere e gli altri seguono e in pronto li ha ucciso il tuo giardino le persone sono anche così quindi quando qualcuno è male e quando sei morto non c'è nessun senso in dare loro spazio hanno bisogno di essere tornati a loro e così che significa si va al 10% bsquare gaming 100% boh soprattutto finucane che percentuale c'è non lo so non è che proprio ah il caricamento ho capito non è che proprio questo video ah è la patch hai capito per capire perché non si parte eh sì però prima non aveva fatto vedere questa cosa che storia mettendo giocatori 88% quasi viral avrà il modo il mio 56k boh non mi sembra un tower defense neanche a me ma sto su chi va là è la stessa mappa di prima ok oh materiali master cosa non lasciare dove erano qua in quest'angolo sì 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 visti ma non ho capito perché un no per loro ti sei aggiunto la vita come? ti sei aggiunto la vita perché io mi sono aggiunto la vita eh ho migliorato master vieni qua che serve batteria e benzina queste cose qua qua dove? qua qua ok questo secondo me ho migliorato un po' la resistenza io ho migliorato tutto resistenza capitavo sparo gundam dagli occhi oh cazzo mi stanno accicchiando cioè ci hanno circoncisi master proprio circoncisi? sai che questa è una frase alla gigino di maio che non so che cosa significa serve carburano io c'ho i cavi rabbocco rabbocco jumper cable ah io c'ho jumper cable c'hai tu? sì no spingi questa musica del merda cioè è la nuova frontiera del fallimento non mi dire che è la russa che è venuta qua non la voglio dai via c'è uno che si chiama crazy scusa ah che bello nice piglia tutto piglia materiali piglia tutto zio piglia tutto che fa tutto brodo dobbiamo potenziare dai che dobbiamo andare alla mappa dopo c'è una pinza un sondino anale qua se ti interessa come? c'è una pinza e un sondino anale oh aspetta altre cose mi ha droppato il tizio cosa ti ha droppato? scorte per l'accampamento dove sono le scorte? mi ho preso io bastardo ho preso tutto dove erano? è là dove sei passato non ce l'ho più ti odio Angelo figa guarda assiviral quanti ne ha che cosa? mi raccomando sì non bad non bad ma mi potrei fare un altro se non so di che in un'altra parte o sbaglio? sì mi culo un attimo ti crude? eh sì siete morti? non ancora Angelo però no no dice voi questi zombie che erano per terra materiali 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 saccheggio aspettino ci sono molto zombie boh io che ne so ho c'ho la macchina non farla non farla suonare lo sai che è un attimo che è sacchie ah 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 sto andato vole tutto mio E io come faccio a sollevarmi? C'è il pulsante per richiamarlo Ma bastardo che mi rubi tutto Cioè questo è un altro punto in più della mappa Di prima Eh sì, te l'ho detto La gente spara merda Perché si diverte a sparare merda Alla fine non è brutto Dai, c'è un sacco di problemi tecnici E di cose che ti chiedi perché Però voglio dire Per essere visto la merda dei giochi Attualmente disponibili sul mercato Ciao Oh, c'è una propoli umani Deboli umani peraltro Io ho bisogno di trovare provviste Non fare l'avido, eh Avido, stupido Il re fa su Lo d'Inghilterra Yeah Va bene Allora, questi sono già stati allertati Come stoccato Oh, questi sono proprio Cioè io li voglio in squadra sempre Posso dirlo? Cazzo Ma perché si vira la spara? Ok, siamo stati qui È stati Get out of there before they call in any backup Materiali Nice Nice Ben dodge Agilo Agilo Sì, Master Ti voglio bello attivo, eh Sì, sì, sì Qua La vinciamo facile, Master Guarda Guarda No Chi è stato? Lo sapevo io Chi è stato? Chi ha parlato? Chi è? Ah, è quello Dove sei, Master? Ha firmato la sua condanna morte Oh, cazzo Ah, dobbiamo andare al furgoncino, Master Quanto sei metri da quella parte Stai sicuro? Sì Tu lo segna Curvo? Tapigè, volevi dire Le parole che stai cercando sono Tapigè Dobbiamo essere qua, Master Ma perché? Per andarcene Dai Ma perché stanno sparando? Perché non abbiamo finito Almeno spero Aspetta, Taleb Porca troia È arrivato Taleb È stazione 3 2 1 Queste sono le missioni belle Sì Sono più facile di quello che pensavamo Basta Basta Ho detto che la vincevamo facile Vediamo quanto ci danno Perché se no Facciamo questo all'infinito Finché non abbiamo abbastanza buono Ah no, è due minuti Dura E perché a questo giro non si è del caricamento? Non lo so Però dobbiamo aspettare altri giocatori Angelo Devi aspettare Quella cosa che ormai non fa più nessuno Di aspettare Quanti soldi ci dà? No Rifacciamolo Angelo Vabbè Diamo appuntamento al prossimo video Ma rifacciamolo Che ci permette di sbloccare Io sono a 58 Me ne manca più Ciao Diamo appuntamento al prossimo video